I teori di che scan Unizia di mani さ 버�ite Addirizzatemi i vostri dati Un oggetto piccolo Ucino Sembra a chi lo guarda più o più grande che un oggetto grande Tanto Grazie So che mangías No, si sclande Si sclande qual è il malinteso malinteso è questo qual è l'atteggiamento con cui in generale il mondo musulmano viene presentato in Europa il cosiddetto occidente sapete che bisogna avere un sacco di cose lo so è stato il prossimo la voce salvo 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 salvo